Alla Ciavatti di Loreto Prutino brinda al successo la Visseripa nella finale play-off della promozione Girone B. La squadra di Marcangeli aveva a disposizione un solo risultato, quello della vittoria che trova i tempi supplementari con una conclusione d'autore di Pasquale Campagna. Pacentro e Visseripa all'inizio si temono a vicenda ed il primo quarto d'ora trascorre senza sussulti. La Visseripa alla prima occasione al quindicesimo sblocca il risultato, Musa si impone sulla sinistra, segue in aria il traversone per Pasqualone al diagonale. La palla colpisce Iacobucci ed entra in rete, autogol e Visseripa in vantaggio. E veemente la reazione Pacentrana, ventissimo Cucurullo manda in avanti, vuolo controlla e poi tira, Cecamore para. Tre minuti dopo Scelli manda in mezzo, vuolo allunga il destro e Cecamore respinge, il gol è nell'aria. Siamo al venticinquisimo, Cimaglia si invola sulla sinistra, si accentra e scarica il tiro vincente con palla che si insacca alla sinistra di Cecamore, uno a uno. Al trentissimo il Pacentro raddoppia, l'azione parte dai piedi di Cimaglia che manda in avanti, dentro l'area conclude Ponticelli per il due a uno. Al trentottissimo capita un incidente al direttore di gara Casalviere di Avezzano, quando si scontrano vuolo e storsilio. Nell'impatto capita anche l'arbitro che deve essere soccorso urgentemente per una ferita all'altezza del sopracciglio. Il gioco si ferma e riprende esattamente dopo otto minuti e negli ultimi istanti del recupero si vede la Visseripa con uno scambio Cellucci-Contini e conclusione di quest'ultimo. Nella ripresa nei Teatini si fa male Pasqualone che prima al quinto subisce un fallo di vuolo e tre minuti dopo accusa nuovamente il dolore. Al decimo viene sostituito da Rincione che riesce a dare una spinta in più alla squadra. Diciottissimo punizione di Contini, palla a Rincione in area di testa Crisante, Dicenzo manda in angolo. Al ventiduesimo la Visseripa pareggia, Rincione in area per Cellucci che controlla spalle alla porta, si gira ed insaccherrete per il due a due. Al trentasettesimo la Visseripa spreca una grossa opportunità per chiudere il match quando dopo una punizione di Contini in area di Renzo spreca incredibilmente. Arriviamo al novantunesimo, dopo una respinta di Speranza palla Cellucci, la sua conclusione dà brivido e finisce a lato. Al terzo minuto di recupero esatto Casalvieri non fa più battere una punizione a favore del Pacentro e decreta la fine. Si va ai supplementari, dopo tre minuti Dicenzo respinge una punizione di Contini, la palla poi finisce in fallo laterale, si sviluppa un cross, colpo di testa di Contini, Speranza respinge e palla che finisce poi a Dicenzo. Il gioco della Visseripa prevale ai supplementari, tredicesimo punizione di Contini, in area ci prova di testa Storsilio. Allo scadere della prima frazione, dopo una rimessa laterale, Campagna controlla di piatto destro e con un'ottima coordinazione al tiro, trafigge Dicenzo che nulla può. E il quindicesimo del primo tempo supplementare, nella ripresa accade poco, espulsioni a parte, al settimo via per proteste l'allenatore del Pacentro di Marzio. Al tredicesimo un'entrata di Scelli su Musa, viene punita con il rosso diretto, anche se Scelli aveva già collezionato un giallo. Pacentro in dieci, alla fine prova le ultime chance, anche addirittura con il difensore Tosti che va a fare l'attaccante. Al sedicesimo ci prova Cimaglia su punizione, all'ultimo secondo del recupero ci prova per la Visseripa Musa e finisce qui questa lunga finale che va alla Visseripa. Per il Pacentro c'è l'amarezza, per non aver sfruttato i due risultati a disposizione, ma c'è l'orgoglio per aver giocato una stagione davvero grandiosa. Marc Angeli, una gara lunga, sofferta, alla fine festeggiata per questo successo importante. Prima di parlare in generale della partita, un applauso sicuramente a Pasquale Campagna per questo strepitoso gol che ha regalato il successo alla vostra squadra. Sì, ha fatto un bel gol, ma penso che un applauso va a tutta la squadra perché eravamo un po' in difficoltà anche con qualche acciacco di troppo e quindi abbiamo affrontato questa partita all'inizio con un po' di timore, poi alla fine le cose sono andate bene. Un applauso a Campagna perché ha fatto un bel gol, però ripeto, credo che questo è un gruppo che merita tanti applausi. Avevamo solo un risultato, noi dovevamo vincere per forza, quindi la partita l'avevamo preparata così, giocando per cercare di vincerla subito. Avevamo passato in vantaggio e poi abbiamo commesso due errori, secondo me, grossolani. Dopo di quello la squadra, il Paciente è venuto fuori, ha un grosso organico, un buon gruppo, quindi questa è una partita che abbiamo veramente meritato di vincere ma con molta sofferenza. Una stagione fantastica, lo torno a ribadire, è tutto merito di questi ragazzi che dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti si sono messi sempre a disposizione, mai lamentandosi, rispondendo a tutte le solicitazioni e a tutte le cose che sia io che il mio staff, compreso il nostro preparatore, il professor Marcello Cefani, abbiamo fatto i ragazzi. Loro hanno coronato una stagione fantastica, dispiace, dispiace, perché avevamo effettivamente due risultati su tre, però il calcio è anche questo. Forse nel momento nostro migliore avessimo avuto un po' più di coraggio nell'affrontare la partita sul 2-1, potevamo chiuderla là. Però la stagione rimane fantastica e devo dire grazie a questi ragazzi veramente che ci hanno messo l'anima in questi mesi. Devo dire che, come le ho detto quando sono entrati nei spogliatoi, dispiace, dispiace perdere, però si cresce anche attraverso le sconfitte e sono convinto che questi ragazzi alla fine sapranno sapranno trarre da questa sconfitta una maggior forza, un maggior coraggio per il loro proseguo della carriera calcistica.